ci sarà una ragione che mi ha spinto a entrare quella sera in quella birreria non lo so proprio faceva freddo una pioggerella un polverio d'acqua rugiola colteggiava nell'aria velando i fanali a gaz con un velo di nebbia trasparente e faceva risplendere i marciapiedi che i bagliori delle vetrine attraversavano rischiarando il fango umidiccio e le scarpe sudice dei passanti non avevo una meta precisa e facevo quattro passi dopo aver pranzato oltrepassare il caffè lionet percorsi le olivivien e poi ancora altre strade all'improvviso vedi una grande birreria che non era molto affollata senza nessuna ragione che entrai non avevo sete cercai con un'occhiata un posto dove potessi restare relativamente isolato e andai a sedermi accanto a un uomo che mi sembra vecchio e che stava fumando una pipa di terracotta da due soldi nera come il carbone sei o sette sottocoppe di vetro ammontichiate davanti a lui indicavano il numero dei boccali che aveva già bevuto non facevo caso al mio vicino con un'occhiata lo avevo classificato come un bocker un bevitore accanito di birra uno di quei frequentatori del locale che si piazzano lì al mattino appena si apre e se ne vanno alla sera quando si chiude era sporco calvo al sommo del cranio i suoi lunghi capelli unticci color pepe sale gli ricadevano fin sul colletto della giacca gli abiti troppo larghi sembravano essere stati cuciti molto tempo prima quando quell'uomo doveva avere un po di pancetta si intuiva che i calzoni non gli si reggevano più alla vita e che egli era costretto a trattenerli e ad aggiustarseli ogni dieci passi avrà avuto il panciotto il solo pensiero delle scarpe e di ciò che contenevano mi terrorizzò i polsini sfilacciati erano addirittura sull'orlo e altrettanto le unghie mi ero appena seduto che quell'individuo mi apostrofò tranquillamente come stai ebbe un sussulto e mi voltai verso di lui guardandolo meglio quegli seguitò non mi riconosci no debare rimaci di sasso era il conte jean debare un mio ex compagno di collegio gli strinsi la mano ero così frastornato che non trovavo una parola finalmente belbettai e e tu come stai rispose con molta tranquillità io sto come posso e tacque cercai d'essere gentile di trovare qualche frase adatta e e cosa fai di bello e gli mi rispose rassegnato lo vedi bene mi sentì arrossire insistetti ma tutti tutti i giorni allora lanciando dense sbuffate di fumo tutti i giorni la stessa cosa poi batte sul tavolo con una moneta cameriere due birre grandi una voce gli fece con lontananza due grandi al quattro un'altra voce ancora più lontana lanciò un pronti sovracuto poi un uomo in crembiure bianco comparve portando i due box dei quali correndo spargeva le gocce bianche sul pavimento sporco di segatura debare votò dunfiato il suo boccale e lo posò sul tavolo mentre aspirava la schiuma rimasta nei baffi poi domandò che c'è di nuovo in verità di nuovo non avrei saputo cosa dirgli al bettai ma nulla amico mio faccio il commerciante e gli disse con la sua voce sempre uguale e ti ci diverti no ma che vuoi bisogna pur far qualche cosa perché ma per occuparsi a che serve io invece non faccio nulla mai nulla quando non si hanno i mezzi capisco che si lavori quando invece si ha da vivere è inutile perché lavorare lo fai per te o per gli altri se lo fai per te vuol dire che ti diverte e sta bene se lo fai per gli altri sei semplicemente un fesso poi posando la pipa sul marmo gridò nuovamente cameriere una grande riprese parlare mi fa venire sete non ci sono abituato già non faccio nulla io lascio che vada invecchio quando morirò non rimpiangerò nulla non avrò altro ricordo che questa birreria né moglie né figli né pensieri né dolori nulla meglio così vuotò il boc che gli avevano portato si passò la lingua sulle labbra e riprese la pipa io lo esaminavo con stupore constatai ma non sei mica sempre stato così prego sempre così fin dal collegio ma questa non è vita mio caro è una prospettiva orribile insomma farai pure qualche cosa vorrai bene a qualcuno avrai degli amici no mi alzo a mezzogiorno vengo qui faccio colazione bevo qualche birra aspetto che a notti pranzo bevo qualche altro boc poi verso mezzanotte o luna vado a letto perché qui si chiude è questa la cosa più seccante su dieci anni ne avrò passati sei seduto qui nel mio angolo il resto a letto mai altrove certe volte scambio due parole con qualche frequentatore ma che cosa hai fatto quando sei venuto a parigi ho studiato legge al caffè medici e poi poi ho passato la senna e mi sono trasferito qui come mai hai fatto questo sforzo cosa vuoi non si può restare tutta la vita al quartier latino i studenti fanno troppo chiasso adesso non mi muoverò più cameriere un'altra grande credevo che mi prendesse in giro insistetti avanti di la verità hai avuto qualche grande dolore forse una delusione amorosa sono certo che le sciagure t'hanno ridotto così quanti anni hai 33 ma ne dimostro almeno 45 lo guardai bene in faccia il viso era rugoso aveva la barba lunga pareva proprio un vecchio sulla testa pochi capelli lunghi svolazzavano su una pelle che non pareva pulita aveva sopracciglia spesse grossi baffi e una folta barba non so perché ma mi fece pensare immediatamente a una catinella colma d'acqua sporca dove bisognava lavare tutto quel pelo gli dissi eh sì sembri più vecchio di quello che sei hai avuto di sicuro qualche grosso dispiacere ribatte da sicuro di no sono invecchiato perché non prendo mai un po' d'aria non c'è niente che lugori la gente come passare la vita al chiuso di un caffè non mi riusciva di credergli varà ti sarai dato alla pazza gioia senza aver amato notte e giorno non si diventa calvi come sei diventato tu scosse la testa seminandosi sulle spalle la forfora che cadeva dai pochi capelli che gli erano rimasti no sono sempre stato un tipo tranquillo e levando gli occhi verso il lampadario che ci riscaldava la testa se sono calvo è colpa dell'illuminazione a gas la grande nemica dei capelli cameriere un'altra birra grande tu non hai sete? no grazie mi interessa quel che dici da quanto tempo sei in questo triste stato d'animo non è una cosa normale non è naturale deve esserci sotto un motivo già una storia che risale alla mia infanzia quando ero ragazzo ho ricevuto un colpo tremendo questo mi ha reso triste per tutta la vita che cosa ti è successo? vuoi proprio saperlo? allora stammi a sentire ti ricorderai sicuramente del castello dove sono stato allevato dato che per cinque o sei volte ci sei venuto durante le vacanze quel grande edificio grigio in mezzo al grande parco e ai viali di querce che si aprono in direzione dei quattro punti cardinali ti ricorderai anche di mio padre e di mia madre tutte e due così rigidi e severi io adoravo la mamma avevo paura del babbo e li rispettavo entrambi abituato come ero a vedere che tutti si inchinavano davanti a loro in paese erano il signor conte e la signora contessa e anche i nostri vicini i Tannemar i Ravelet i Brenville dimostravano per i miei genitori grande considerazione avevo allora tredici anni ero allegro contento d'ogni cosa come lo si è a quell'età vibrante di gioia per essere al mondo ebbene verso la fine di settembre qualche giorno prima del ritorno in collegio mentre giocavo a fare il lupo nel folto del parco correndo in mezzo al fogliame vedi i miei genitori che passeggiavano proprio mentre stavo per attraversare un viale lo ricordo come se fosse avvenuto ieri c'era un gran vento tutta la fila degli alberi si incurvava sotto le raffiche e metteva gemiti sembrava urlare con quei suoni sordi e profondi che i boschi emettono durante i temporali le foglie di velte ormai giallizze svolazzavano come uccelli turbinavano cadevano e poi correvano lungo tutto il viale come bestiole veloci il giorno declinava nelle macchie era già scuro quell'agitazione del vento e delle fronde mi eccitava galoppavo come un pazzo e urlavo per imitare il lupo quando ebbi scorto i miei genitori mi avvicinai con passo leggero sotto il fogliame per sorprenderli come se fossi stato un malandrino ma mi fermai colto da subita paura a qualche passo da essi papà impreda una collera terribile diceva tua madre è una sciocca e d'altronde non si tratta di tua madre ma di te ti dico che mi occorre quel denaro che esigo che tu firmi mia madre rispondeva con fermezza non firmerò è il patrimonio di jean lo conservo per lui e non voglio che ti mangi anche quello con le sgualdrine e con le serve come hai fatto della tua eredità allora mio padre tremando di furore si voltò e afferrata la mamma alla gola cominciò a percuoterla in pieno viso con tutta la sua forza il cappellino di mia madre cadde e la sua chioma si sciolse e la tentava di ripararsi dalle percosse ma non ci riusciva e come un pazzo mio padre colpiva colpiva e la mamma si accasciò a terra e si coperse il viso con le mani allora mio padre la voltò a supina per colpirla ancora allontanando le mani di lei che se ne faceva a schermo quanto a me caro amico mi sembrava che il mondo stesse per finire che le leggi eterne fossero rovesciate provavo lo sconvolgimento che si prova di fronte alle cose soprannaturali di fronte alle catastrofi mostruose di fronte ai disastri irreparabili la mia mente infantile si marriva mi pareva di impazzire e allora mi mise a urlare quanto più forte potei in preda a uno spavento che non aveva spiegazione a un dolore e a uno sconforto orrendi mio padre mi udì si volse verso di me e alzatosi avanzò nella mia direzione temetti che mi avrebbe ucciso e scappai nel bosco correndo all'impazzata senza una meta corsi forse per un'ora forse per due non saprei dirlo a notte fonda caldi sul prato e rimasila smarrito divorato dalla paura torturato da un'angoscia che poteva spezzare per sempre il povero cuore di un ragazzo avevo freddo e forse anche fame spuntò l'alba non avevo il coraggio di alzarmi né di continuare a camminare né di fare ritorno e nemmeno quello di riprendere la fuga tanto forte era la paura di incontrare mio padre che non volevo rivedere mai più sarei forse morto di dolore e di media dai piedi dell'albero se il guardiacaccia non mi avesse rintracciato e riportato a casa a forza viva trovai i miei genitori col loro solito aspetto soltanto la mamma mi disse ragazzaccio mi hai fatto una gran paura stanotte non ho chiuso occhio non risposi ma mi misi a piangere mio padre non disse una parola otto giorni dopo fece ritorno in collegio ebbene caro per me fu finita avevo visto l'altra faccia del mondo quella cattiva da allora non ho più veduto quella buona che è accaduto nel mio animo quale strano fenomeno mi ha sconvolto le idee non lo so ma da allora niente più mi attrae non ho più voglia di far niente non ho più amore per nessuno non ho più desideri né ambizioni o speranze e dappertutto rivedo la mia povera mamma a terra nel viale e mio padre che la colpisce la mamma è morta qualche anno dopo il babbo vive ancora ma non l'ho più visto cameriere una birra grande gli portarono un boccale che beve d'un sorso ma tremava e quando riprese in mano la pipa la ruppe allora ebbe un gesto di disperazione e disse ecco questo sì che è un guaio prima di averne ingrommata ben bene un'altra ci vorrà un mese e attraverso la vasta sala ormai piena di fumo e gli altri bevitori lanciò il suo solito grido cameriere una birra grande e una pipa nuova grazie a tutti